...la domenica delle palme, uno dei cardini della liturgia cattolica. Saffa tutti i sciapri, il cardinale sempre ha voluto che si facesse la moto benedizione. La cosa, il cardinale tra tutte le cose che la disciazzano, ha voluto che la piazza degli artisti, tutti i potecipisti e i dinamini che vogliono, lui in collegamento a telefono che incontra tutti i giovani e il povero parico dei fiorentini deve benedire tutti i signori. Va bene, adozione per i senza fissa timora.